Ben tornati in studio, parliamo di ambiente, parliamo di rifiuti, lo facciamo con il Presidente di Asia che ci è venuto a trovare nei nostri studi. Buongiorno Presidente. Buongiorno. Allora, partiamo subito dalle grandi sfide di Asia che sta portando avanti, sappiamo che Napoli è una delle città più complicate al mondo per gestire la raccolta di rifiuti, ma parliamo anche della partnership con il Green Med Symposium che ormai è attiva da sempre tra Asia e il Green Med e lo facciamo con la collega Monica D'Ambrosio che è graditissimo ritorno sugli schermi di Teleclub Italia. Buongiorno a te Monica. Buongiorno Giovanni, buongiorno all'ingegner Ruggero e buongiorno a tutti i tuoi telespettatori. Ci è venuta la curiosità di chiederti da dove ti stai collegando, visto che vediamo diciamo delle immagini bucoliche alle tue spalle. Eh sì, in tema Green Med, insomma mi sono immersa in questo contesto, come dici tu, bucolico, che in realtà è il cortile della scuola dei miei figli, da dove mi muoverò verso il successivo appuntamento. Ecco, diciamo, questa è la motherhood, come dicono gli inglesi, le mamme che lavorano, fanno le mamme e fanno sempre centomila cose. Allora Presidente, tornando al tema della puntata, Asia ha come obiettivo Napoli pulita. È un obiettivo che sappiamo complesso, tra l'altro negli ultimi mesi il grande afflusso di turisti ha reso ancora più complesso questo obiettivo. Ma quali sono gli strumenti che Asia ha messo in campo per riuscire a portare Napoli al di là di quell'immagine che purtroppo per anni ha avuto e che fortunatamente nell'ultimo periodo sta superando di una città sporca? Le azioni che abbiamo messo in campo partono praticamente dai principi di una pulizia costante, ovvero partendo dal personale, quindi immettendo nuovi giovani, nuovi ragazzi nella forza lavoro che quotidianamente tengono pulita la nostra città, passando per nuovi automezzi e nuovi strumenti che danno un supporto ai ragazzi, agli operatori che stanno quotidianamente nella città, ma soprattutto che riescono a garantire una frequenza molto più costante in funzione del flusso turistico su cui non eravamo abituati, cioè il turismo c'è sempre stato a Napoli, negli ultimi due anni c'è un turismo costante 365 giorni all'anno e abbiamo dovuto cambiare le modalità di pulizia e decoro della città partendo su questi due capisaldi, quindi personale e attrezzatore. Oltre a questo l'idea di Asia è quello di avviare un processo di digitalizzazione complessivo aziendale che vedrà in campo anche degli operatori che saranno interconnessi immediatamente con una centrale operativa che in caso di sversamenti improvvisi o problematiche nella città possiamo intervenire con squadre ausiliare a quelle persone che in modo costante sono all'interno del centro cittadino. Ciò sarà la tecnologia ad aiutare ad Asia a scoprire quali sono le parti di Napoli in quel momento da recuperare al decoro urbano. E non aspettare che ci sia una segnalazione dei cittadini o del comune per poter intervenire immediatamente e dare decoro alla città. Negli ultimi anni Asia sta affrontando anche un'altra sfida, quella dei mezzi elettrici che permettono di pulire la città anche in quelle che sono le sue parti meno raggiungibili, ma soprattutto lo permettono di fare in una forma green al 100%. Allora, l'attività degli automezzi elettrici è solo la parte visibile di un progetto complessivo di rivoluzione, di abbassamento della nostra impronta ambientale rispetto al servizio che facciamo. Perché noi facciamo un servizio che dà delle emissioni di CO2 e un impatto ambientale e quindi l'idea di poter fare lo stesso servizio con qualità, ma abbattendo quelle che sono le emissioni clima al tirante, ma soprattutto anche le emissioni sonore all'interno della città, perché ricordiamoci che la città è vissuta sia dei turisti, da persone di lavoro, ma persone che dormono. E noi il nostro lavoro lo facciamo soprattutto nelle ore notturno. Quindi far sì che l'attività di raccolta, di pulizia avvenga con attrezzature, strumenti silenziosi come sono quelli elettrici, ci dà un grosso vantaggio in termini di emissioni sonore ed emissioni di CO2. Oltre a questo, quindi oltre diciamo alla parte visibile, dietro c'è tutto un complesso sistema di formazione del personale, rendere praticamente tutte le nostre sedi compatibili con l'energia green, ovvero stazioni di ricarica che vengono alimentati da pannelli fotovoltaici. E' questo il vero aspetto green della progettazione di una raccolta diffusa, non solo il singolo mezzo, ma attrezzature, sedi e personale formato questo. Cambierà anche la modalità di organizzazione delle manutenzioni, perché i mezzi full electric hanno un diverso impatto in termini di manutenzione, molto più bassa e con minori costi di esercizio. Presidente, parliamo anche di un tema che ha fatto molto discutere, il famoso concorso Asia, che ormai è stato fatto, le persone assunte stanno entrando a pieno regime, fortunatamente l'Asia perciò ha trovato nuova forza lavoro, fresca e audace. Ma come sta andando? Allora, partiamo dal fatto che l'età media si è abbassata da circa 60 anni a 55. Capite bene che questo è un valore importante. Siamo stati a Torino nella Planet Week mondiale con il Ministero dell'Ambiente, dove le nostre cugine, sorelle, quindi società simile come Asia, hanno un'età media di 45. Ciò significa che siamo ancora un po' lontano da quello che è l'attività necessaria, perché il nostro è un lavoro comunque logorante, quindi c'è bisogno di forza e lavoro. La lungimiranza che è stata fatta nel concorso è che abbiamo fatto un concorso con una gradatoria aperta per ben tre anni, in modo che abbiamo attivato non solo l'innesto di forza giovane, ma abbiamo potuto fare delle job interno, quindi necessità di ulteriori postazioni lavorative, che liberando postazioni degli operatori appena entrate, favoriscono praticamente l'innesco di forze giovane all'interno di Asia. Per noi quello è stato fondamentale, noi abbiamo in termini di costo quasi l'80% del nostro costo è determinato dagli stipendi e quindi capite bene qual è l'impatto necessario per poter lavorare in continuità senza avere problematiche. Presidente, le posso fare una domanda un po' personale, com'è essere il presidente di Asia, una delle aziende più importanti di Europa nella raccolta dei rifiuti urbani? E' una sfida davvero complessa. Una bella domanda, una sfida complessa a Vincente, ma soprattutto avere un occhio legato alle attività quotidiane, ma soprattutto l'altro occhio verificare quello che il futuro ci aspetta. Il futuro ci aspetta non solo in termini di piano industriale, ma in termini di sviluppo della città e siamo in un momento bellissimo per Napoli in cui sta vivendo uno sviluppo turistico, culturale, anche di un'imprenditoria diversa e insieme a questi i servizi essenziali che possono essere la raccolta dei rifiuti o i trasporti, si devono adeguare man mano che la città. Quindi la sfida è molto avvincente ed è una delle cose con cui mi dà forza quotidiane, perché problemi ce ne sono tantissimi, è inutile nasconderli perché come dicevamo Napoli è una città complessa nel suo insieme e quotidianamente ci sono da affrontare mille problemi, ma questo ci dà la forza per credere in un futuro migliore ed essere protagonisti di questo futuro. Presidente, lo stereotipo del napoletano incivile, del napoletano zozzone se lo vogliamo mettere proprio in termini più semplici, lei che ne pensa adesso che conosce forse meglio di ogni altro le abitudini legate ai rifiuti dei napoletani? Ecco, questa è una di quelle attività che stiamo cercando di debellare, ma soprattutto con la formazione e la comunicazione costante. Non andiamo indietro nel tempo, basta capire che domenica su via Chiatamone, quindi domenica con tanti turisti, abbiamo ritrovati un computer e una scrivania vicino ai bidoni. Che segnale è questo? È un segnale un po' dove tutti il redaggio del passato, qualsiasi cosa noi ci dobbiamo disfare, che sia un computer e una scrivania, l'importante è metterla nelle postazioni dove sia Napoli passa. Questo concetto va debellato con la comunicazione perché noi abbiamo un servizio efficiente ed efficace di raccolta puntuale di questi rifiuti e molte volte l'abitudine scocciarsi di fare una chiamata o una mail in cui richiedere questa attività rende molte volte alcuni sforzi che facciamo paghi. Che cosa stiamo facendo? Anche perché, mi perdoni Presidente, io ci tengo molto a spiegarla questa cosa, molto spesso è molto più facile essere civili che essere incivili. È molto più facile chiedere la prenotazione di questo servizio, a me è capitato, e un servizio che funziona si vengono a prendere, voglio dire, il rifiuto, oppure ancora più semplice portarlo nei luoghi preposti, invece di abbandonarlo semmai in un luogo rischiando una multa, dovendoselo caricare nella macchina. Ma soprattutto quell'abbandono diventa una calamite per altri rifiuti. Questa è purtroppo una questione che vediamo tutti i giorni. Proprio per agevolare questo, cosa stiamo facendo? Anche sulla digitalizzazione, come dicevo prima, partirà trasversalmente all'intero settore dell'azienda. Creeremo un rapporto col cittadino immediato, quindi tramite i canali che oggi si utilizzano, quindi Whatsapp, Instagram, in modo tale da avere una percezione immediata di una sia attenta e vicina ai cittadini, perché tutte le nostre scelte hanno al centro il cittadino e quindi tutta quella che è l'attività complementare al cittadino in senso di gestione dei rifiuti. Questo dovrebbe accelerare e velocizzare, quindi anziché aspettare il lunedì e chiamare il numero verde, se il sub della dominio c'è un'esigenza, basta collegarsi al nostro sito e quindi questo andrà in funzione dal 1 gennaio 2025 e stiamo lavorando in modo molto importante rispetto a questi processi innovativi. Monica, di queste sfide e di tanto altro si parlerà al GreenMed di quest'anno, che a grandi novità diventa ancora di più quello che già è stato negli scorsi anni, un grande punto di riferimento per quanto riguarda quello che è il mondo della sostenibilità e il mondo dell'ambiente. Poi ce lo spieghi, però prima di parlare con te faccio un'altra domanda al Presidente. Presidente, il GreenMed è divenuto un appuntamento fisso a Napoli ed è un momento importante anche perché ci si confronta non solo con il mondo del Sud Italia, ma con tutta Italia e anche con tutta Europa su quelle che sono le problematiche legate all'ambiente. Asia sarà presente, il perché di questa scelta? Perché quello è un momento di confronto, io lo chiamo anche un incompatore di idee, cioè in quel momento abbiamo un confronto tra gli operatori che quotidianamente hanno problemi da risolvere e anche sistemi diverse dalla semplice gestione, quindi abbiamo a che fare con università, operatori economici, industrie e quello è un momento in cui noi ci confrontiamo per tirare fuori le nuove idee per rilanciarle nel nostro aspetto. Quindi noi ci crediamo tantissimo in queste attività di confronto, perché un dibattito, un incontro fatto in quella sede non è una semplice rappresentazione di quello che si sta facendo, ma è anche ascoltare e rendersi conto di come il mondo sta andando avanti rispetto a quelle che possono essere le strategie per il futuro. Quindi ci crediamo tantissimo in questi settori e siamo vicini agli organizzatori per rappresentare l'evoluzione di Asia e soprattutto ascoltare che cosa ci viene detto dall'esterno. Bonica, allora come vanno i preparativi di questo Green Med? Manca poco più di un mese al taglio del nastro. Immagino che ormai siamo alla definizione del programma e delle tante novità anche di questa edizione. Esattamente così. Noi abbiamo sul portale della manifestazione pubblicato i primi programmi, quindi chi avesse desiderio o voglia di consultarli sono appunto disponibili. Le novità sono tante quest'anno. Giovanni, intanto ricordiamo che cambiamo location, ci siamo spostati dalla stazione marittima alla mostra d'oltre mare perché si era resa necessaria insomma una maggiore metratura perché quest'anno non saremo soltanto un evento di contenuti ma saremo anche un evento espositivo. Avremo una vera e propria esposizione dedicata sia alle aziende che si occupano di gestione dei rifiuti, di riciclo, di igiene urbana, sia alle aziende che si occupano invece di energia, energia pulita. Quindi si arricchisce anche il palinsesso di appuntamenti nella misura in cui parleremo anche di eolico, fotovoltaico, idrogeno, di tutto il tema dell'accumulo di questa energia intermittente benché pulita e di quanto la campagna come regione sia molto avanti in un fatto di progettazione e di rilascio di autorizzazioni. Ci misureremo insomma con le criticità che quotidianamente bisogna affrontare per mettere mano a questa attività verso la transizione ecologica ed energetica ma allo stesso tempo cercheremo di mettere in vetrina tutte le eccellenze che il nostro territorio riesce sempre ad esprimere. Tutto questo in una cornice che come sempre rimane sì istituzionale perché arriveranno da tutta Italia insomma enti di ricerca, appunto centrali e periferici, arriveranno insomma aziende, utility come Asia anche se permettetemi qui diciamo una nota di campanilismo ci vorrebbe una Asia un po' in tutte le città, grandi città della centro-sud Italia. La prima giornata aprirà proprio con un incontro dei sette sindaci delle sette grandi città metropolitane della mezzogiorno, quindi Roma, Napoli, Bari, Reggio Calabria, Messina, Palermo, Catania che insieme firmeranno un accordo proposto loro dal Ministero e dalla Conai che anche quest'anno rimane nostro main sponsor. Quindi davvero un programma ricchissimo di appuntamenti, ricchissimo di spunti e una parte espositiva che consigliamo a tutti di visitare. Ricordiamo sempre che la partecipazione è assolutamente gratuita, però quest'anno dovrebbero insomma tutti registrarsi scaricando un biglietto elettronico dal portale della nostra manifestazione. Grazie Monica, in bocca al lupo, immagino che anche quest'anno sarà davvero una edizione ininteressante per tutti quelli che hanno a cuore i temi della sostenibilità ambientale, ma soprattutto per confrontarsi perché poi questo è il sale nel voler investire nel futuro, riuscire a confrontarsi con gli altri, a capire quali sono i problemi comuni ad affrontarli, Presidente. Sì, e questo sarà un punto di forza rispetto a quello che la strategia futura dia sia, ascoltare tutti, dai cittadini all'università, alle imprese, per far sì di rendere una città sempre più pulita, vivibile e soprattutto una raccolta differenziale degna di una città importante come Napoli. E questo è l'augurio che ci facciamo tutti. Allora, io ringrazio il Presidente di Asia, ringrazio Monica che è stata in collegamento con noi, l'appuntamento è a giugno per il Green Med, ma noi ne torneremo a parlare sicuramente per informarvi su questo evento che è davvero molto importante per tutti quelli come noi e come Recicla TV che credono all'ambiente sano e pulito. Grazie e buon proseguimento con i programmi di Teleclub Italia. Grazie.